I carabinieri dello squadrone riportato Cacciatori Calabria hanno trovato ben nascosti tra le rocce due lanciarazzi anticarro e relativo munizionamento. Le armi, dichiara provenienza clandestina, sono state sottoposte a sequestro. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un servizio di rastrellamento svoltosi in un'area rurale preaspromontana compresa tra i comuni di Caraffa del Bianco e Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria, in un terreno incolto e di libero accesso. I militari si sono insospettiti di un cumulo di sassi coperto da fitta vegetazione nei pressi di un rudere e, dopo aver sollevato le prime pietre, hanno intravisto un tubo di colore arancione al cui interno hanno trovato due lanciarazzi perfettamente funzionanti, ambedue caricati di munizionamento. Dopo aver messo in un primo momento in sicurezza il lessito, hanno eseguito la procedura di distruzione dei due razzi per brillamento. Sono stati effettuati anche accurati accertamenti tecnici sul luogo del rinvenimento, volti a risalire che avesse la disponibilità di queste armi.